visto che l'ultimo video è andato veramente benone ne approfitto per fare un piccolo riassunto per tutti quelli che si sono iscritti ogni video che vedrete fatto da me probabilmente avrà una location diversa questo non perché io sia un multimiliardario non perché io sia un milionario chissà quanti soldi abbia ma semplicemente perché a me piace viaggiare per ostelli e con il van quindi vado a mostrare sostanzialmente anche il tipo di vita che faccio cioè nel senso tipo in questo momento sto in un ostello quindi ripeto non è che ci vogliano i milioni per fare questo tipo di vita questo qua è un ostello carinissimo stanza 4 in questo momento ci stanno due ragazze io e un letto vuoto ieri ci sta un altro ragazzo balconcino giù ci sta la sala hall in cui ci si può fare conoscenza si può parlare eccetera eccetera questo è il bagnetto della stanza e quindi niente è un semplice ostello ci tengo a specificarlo per i nuovi iscritti che magari non conoscendo il canale si chiedono ma questo ogni volta registrato a un punto diverso la risposta è sì forse può essere una cosa anomala magari non ho le lucette dietro fighe però diciamo che viaggiare e fare video anche qualitativamente belli non è proprio il massimo quindi prima di iniziare come sempre like se ti piacciono contenuti come questo qua e iniziamo allora oggi voglio andare a parlare di qualcosa che non è né clickbait né fichissimo nel mondo del web e quindi non azioni e non criptovalute oggi parliamo di un bond di un bond a tasso misto che secondo me inizia a essere interessante cioè si inizia a ragionare questo bond è molto particolare quindi come raramente accade su questo canale ho preparato una scaletta proprio da bravo youtuber in cui così almeno cerco di mantenere una linea e di rendere tutto il più chiaro possibile allora innanzitutto primo punto perché iniziare a prendere in considerazione obbligazioni e bond oggi e non ieri come sappiamo come abbiamo detto 100 volte in questo canale ma anche nel canale telegram che tra parentesi ti lascio qua sotto in descrizione fino a pochissimo tempo fa i tassi di interesse per la bce erano pari a zero questo che cosa voleva dire fino a qualche tempo fa prima di questo rialzo dei tassi che andare ad investire nei bond sostanzialmente era un rischio veramente assurdo da correre perché il rendimento atteso era bassissimo visto che il tasso di interesse fissato da bce era praticamente pari a zero anzi era pari a zero però allo stesso momento ci stava un rischio enorme perché nel momento in cui io compro un bond oggi con il tasso di interesse immaginiamo allo 0% se il tasso di interesse poi viene alzato dalla bce il mio bond perde di valore per quale motivo? perché se io voglio vendere un bond che paga un tasso di interesse bassissimo in un momento in cui però i tassi di interesse sono saliti perché una persona si dovrebbe andare a comprare nel mercato secondario il mio bond che rende poco ovviamente questo non accaderebbe mai perché una persona andrebbe a comprare direttamente i nuovi bond che saranno ovviamente emessi con il nuovo tasso di interesse quindi che cosa succede o meglio che cosa succedeva fino a pochissimo tempo fa fino a prima del rialzo dei tassi succedeva che sostanzialmente i rendimenti erano bassissimi pari a zero addirittura inferiori all'inflazione ma siccome i tassi erano pari a zero sostanzialmente potevano solamente salire e quindi tu non solo avevi dei rendimenti bassi ma correvi anche un altissimo rischio di andare a perdere giusto per rendere a livello statistico matematico quello che sto dicendo a parole questo qua è un etf della Vanguard Total Bond quindi sostanzialmente dentro ci stanno migliaia e migliaia di bond per farvi vedere dal 2020 al 2022 questo etf ha subito un ribasso importantissimo proprio perché sono stati rialzati i tassi di interesse quindi mentre prima secondo me come ho detto tantissime volte su questo canale andare ad investire singolarmente facendo ad esempio stock picking ma anche andando ad utilizzare specifici etf era un rischio veramente enorme io ricordo che stavo con un amico sciando due anni fa lui mi aveva fatto vedere un fondo che investiva in bond due anni fa ovviamente sponsorizzato dal suo consulente di banca e io gli avevo semplicemente non detto se era giusto o sbagliato uno perché non lo posso fare due perché non lo farei mai perché è sempre una scelta sbagliata secondo me ma sostanzialmente gli avevo semplicemente fatto capire i rischi quel mio amico sostanzialmente aveva capito i rischi ma se ne è fregato e adesso mi ha riscritto poco tempo fa che devo fare io sto continuando a perdere quindi fino a questo momento era veramente folle investire nei bond ovviamente escludendo lunghe strategie di durata decennale e ventennale mentre adesso inizia a essere interessante perché i tassi della BCE sono saliti non è detto che continueranno a salire in eterno e quindi i rendimenti iniziano a essere un po' più allettanti ma andiamo nel concreto obbligazione in esame che trovo interessante Batosta Bond 21-22 ve l'ho appena fatta vedere l'obbligazione di cui sto parlando è sostanzialmente emessa da questa società anzi gioco di parole è sostanzialmente emessa da Societe Generale se è così la pronuncia non lo so io non parlo francese quindi fatevelo stare bene sostanzialmente questa banca è per capitalizzazione la quarta banca più grande d'Europa quindi sostanzialmente stiamo parlando di un colosso è emessa un'obbligazione che adesso andremo a vedere secondo me in alcuni scenari può essere molto molto positiva andiamola a vedere innanzitutto qua avete tutti i dati che vi servono per farvi le vostre eventuali ricerche qua ci sta il codice ISIN qua ci sta tutto quello che occorre sapere ad esempio il taglio minimo è 1000 euro ovviamente è una tipologia corporate perché non è emessa da un governo ma è emessa da una società e qui vediamo la cosa più interessante 10% di rendimento ma non ci facciamo fregare e andiamola a vedere un attimino meglio allora prima di andare a vedere come è possibile che questa società paghi il 10% di interesse andiamo a vedere chi la emette rating e solidità chi la emette abbiamo detto Societe Generale penso sia abbastanza famosa comunque sia ripeto è una banca di solidità europea molto molto importante è la quarta più grande e come sempre come abbiamo visto anche nei passati video quando andiamo a vedere il mercato dei bond dobbiamo andare a vedere la solidità la credibilità creditizia di una società perché noi gli stiamo andando a prestare i soldi possiamo vedere sostanzialmente che tutte le agenzie di rating gli danno un valore molto alto ad esempio Fitch Rating gli ha dato A Standard & Poor's gli ha dato A1 e Moody's gli ha dato A1 quindi sostanzialmente stiamo parlando di una società che dal punto di vista finanziario in questo momento è solida questo mi sento di dirlo poi se nel futuro uscirà qualcosa di assurdo qualcosa di imprevedibile ovviamente non lo possiamo sapere ma adesso mentre registro il video stiamo parlando di una società molto solida che tipo di bond? andiamo a vedere le caratteristiche durata in pratica questo bond ha una durata decennale quindi andrà a scadere a fine febbraio del 2033 che cosa vuol dire? che se io la compro oggi e aspetto la scadenza di 10 anni senza mai venderla sostanzialmente non posso andare a perdere ovviamente escludendo l'inflazione oppure il rischio default visto che noi gli stiamo andando a prestare soldi quindi durata decennale e valore nominale di 1000 euro quindi compriamo adesso con valore di 1000 euro se la teniamo e non la vendiamo sostanzialmente riaveremo alla fine i nostri 1000 euro indietro la cosa particolare qual è? come vedete qua nelle caratteristiche ve l'ho evidenziato la cedola lorda fissa pare al 10% è solamente per i primi due anni quindi se noi la compriamo adesso per i primi due anni che però in realtà non sono quest'anno il prossimo anno ma sono febbraio 2024 e febbraio 2025 quindi sostanzialmente a febbraio 2024 a febbraio 2025 noi prenderemo il rendimento del 10% che è un rendimento eccezionale ovviamente soprattutto emesso da una società di questo tipo ora dove sta l'inghippo? perché come sempre io sottolineo le cose importanti nessuno ci regala nulla mai quindi qual è la fregatura? dal terzo anno questo bond paga un coupon variabile variabile in che senso? questo coupon quindi il rendimento dal terzo anno in poi quindi da febbraio 2026 in poi quindi febbraio 26 febbraio 27 28 29 30 31 32 e 33 cosa ci paga? ci paga sostanzialmente come leggete qua il differenziale tra i tassi swap euro 30 e euro 5 che cosa vuol dire? sostanzialmente euro 30 e euro 5 sostanzialmente è il costo del denaro bene facendo la differenza di questi due valori e moltiplicandola per 3 quindi il 300% perché leggete qua pari a 3 volte il differenziale otterremo il rendimento di questo bond ora la cosa interessante da sapere qual è che negli ultimi 20 anni tra un po' ovviamente ve lo mostro anche a schermo così pure voi potete fare i vostri controlli negli ultimi 20 anni il valore pari a 3 volte questo differenziale quindi il valore che il bond pagherebbe sostanzialmente è stato del 2,71% con un picco del 5,4% e un minimo del 2,62% che cosa vuol dire? che se noi andiamo a prendere questo differenziale sostanzialmente notiamo una cosa particolare che in questo momento mi ha colpito e che mi ha spinto a fare questo video ovvero che il differenziale in questo momento ed è una cosa non solo anomala ma anche molto rara è negativo cioè vuol dire che adesso i tassi a 30 anni pagano meno dei tassi a 5 anni e questa è una cosa assurda se voi ci pensate è come se tu andassi in banca prendessi un mutuo di 5 anni il rendimento fosse del 2% ma se tu lo andassi a prendere a 30 anni il rendimento fosse inferiore ma questo non ha senso a livello economico tra l'altro questo sempre collegandomi agli ultimi video è frutto di distorsioni economiche fatte e perpetrate dai pianificatori centrali negli ultimi anni perché è logico che non ha senso chi è che vorrebbe razionalmente un interesse minore per prestare soldi per più tempo cioè ovviamente non ha senso questa cosa è praticamente avvenuta solo nel 2008 e quindi fa capire che è una situazione molto anomala quindi vuol dire che in questo caso il bond qua vi ho fatto una simulazione pagherebbe ad esempio il 10% il primo anno il 10% il secondo anno ma in questo momento il differenziale è negativo perché a 30 anni sostanzialmente gli interessi sono inferiore rispetto al tasso a 5 anni anzi qua ve l'ho messo anche separato allora questo qua è vedete il rendimento a 5 anni in questo momento è 2,81% mentre il rendimento a 30 anni è 2,64 ovviamente la differenza di questi due valori sarebbe meno 0,167 e questa cosa abbiamo detto e spero capito è molto assurda se non hai capito il motivo se hai qualche domanda fammela qua sotto nei commenti che io cerco di rispondere veramente sempre a tutti i commenti non in maniera stupida tipo una faccina giusto una cosa del genere giusto per occupare la memoria dei server di Google ma cerco di rispondere sempre con il massimo interesse quindi questa è una situazione anomala e in questo momento quindi la simulazione sarebbe questa 10% primo anno il bond 10% il secondo anno il bond e poi 0,0,0,0 perché 0 e non negativo? perché questa è una cosa molto interessante di questa obbligazione ovvero che non si può andare in negativo quindi 10% primo anno 10% secondo anno dopodiché viene pagato tre volte quindi il 300% il differenziale tra il rendimento a 30 anni e a 5 anni sostanzialmente dei bond europei molto 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 semplificata però sostanzialmente funziona così quindi possiamo dire che questo è lo scenario peggiore cioè in questo momento noi siamo nello scenario peggiore in questo scenario peggiore il rendimento annualizzato quindi finiti 10 anni è pari all'1,84% questo però è un rendimento andando a considerare un interesse composto senza andare a considerare l'interesse composto se non sbaglio l'ho calcolato prima il rendimento sarebbe del 2,1% quindi senza che lo andiamo a rinvestire è come se prendessimo il 2,1% e lo spendessimo tipo qua in Thailandia a Kotao che tra l'altro vi straconsiglio perché è un'isola pazzesca bellissima non solo questa ma in generale tutta la Thailandia vabbè ci farò come sempre un video a fine mese come ho fatto con Bali con i costi e tutto quanto i ricavi i guadagni eccetera quindi il rendimento annualizzato è 2,1% circa mentre annualizzato considerando un interesse composto è 1,84% questo è il peggior caso possibile ovviamente escludendo il fallimento dell'emittente cosa succede però se andiamo a prendere ad esempio i valori medi degli ultimi 20 anni abbiamo detto che il valore medio degli ultimi 20 anni è positivo e pare al 2,71% quindi cosa succederebbe se andassimo a mettere 2,71% come rendimento in ogni anno quello che succederebbe è che l'interesse annualizzato composto sarebbe 3,55% che inizia a diventare interessante ma ricordiamoci che anche qua ci sta l'interesse composto qui prima l'ho controllato molto velocemente se non sbaglio 4,2% poi se dovessi sbagliare i valori mentre edito il video me ne accorgo e ve lo metto a schermo la cosa interessante da sottolineare qual è che in questo momento questo bond quota sotto la pari quota 97 se non sbaglio ho preso qua il valore su borsa italiana dove sta? il prezzo ufficiale sostanzialmente è intorno ai 97 quindi che cosa vuol dire? che noi adesso lo andremo a pagare 97 ma se lo portassimo a scadenza ci verrebbe pagato 100 ovviamente come tutti quasi tutti i titoli di debito quindi vuol dire che in questo caso se lo pagassimo oggi a questo rendimento ci dovremmo aggiungere ad esempio un 3% se fosse a 97 sto semplificando questa cosa ovviamente aumenta il rendimento medio perché sostanzialmente sarebbe un extra interesse non dato dal pagamento delle cedole ma dato dal differenziale tra quanto acquisti il bond e quanto vendi il bond piccola nota mi sono appena ricordato che non ho sottolineato che tutto quello di cui sto parlando è lordo non netto quindi poi i calcoli netti fateveli voi quindi questo è nello scenario medio ovvero quello che è successo negli ultimi 20 anni 10 10 e poi il valore negli ultimi 20 anni quello che mi aspetto io è che molto probabilmente i tassi di interesse non continueranno a salire in eterno l'ho fatto capire anche nell'ultimo video il mio punto di vista che ripeto non è detto che sia corretto ma è il mio punto di vista però sicuramente questa è una buona tutela perché nel caso in cui i tassi di interesse si andassero ad abbassare rispetto ai valori attuali questo bond andrebbe ad acquisire ancora più valore perché è messo comunque sia in un momento in cui i tassi di interesse non sono a zero e quindi andrebbe a generare un extra rendimento immaginatevi se la BCE andasse ad abbassare i tassi di interesse e magari riuscissimo ad acquistare questo bond ad un valore intorno ai 92 93 questo vuol dire che a questo rendimento ci dovrebbe aggiungere ad esempio un 8% e quindi il rendimento annualizzato inizia a essere molto interessante questa è una piccola osservazione cioè la piccola osservazione sta nel considerare che non viene pagato 100 in questo momento ripeto viene scambiato a 97 quindi è un 3% in 10 anni che va spalmato se si riesce ad acquistare ancora di meno sarebbe ovviamente ancora più interessante cosa succede quindi magari nello scenario migliore perché ripeto questo questo scenario non mi ricordo dove sta sta qui questo scenario non è normale in economia questo scenario non è sano non è sostenibile non è possibile che le persone vadano a pagare un interesse maggiore per una duration minore rispetto ad una duration maggiore è ovviamente senza senso quindi quello che io mi aspetto è che molto probabilmente nessuno sa dire quando ma nel medio termine questo valore torni a normalizzarsi e quindi torni ad essere in territorio positivo in quel caso quindi andrà calcolato ovviamente il differenziale come da bond quindi tre volte il differenziale vabbè l'ho già detto non ce la faccio più a dirlo andiamo a vedere uno scenario ottimistico siccome qui abbiamo detto che nello scenario migliore il picco è stato del 5,4% immaginiamo che magari nello scenario migliore il differenziale sia pari ad un 4% che magari è una cosa che non è usuale però è possibile cioè è successo 5, quant'era? 5, che memoria di merda 5,4% è stato il picco immaginiamo se magari il tasso medio tre volte differenziale sia 4% in questo caso il rendimento totale sarebbe 52% in 10 anni per un rendimento annualizzato composto ripeto 4,28% qua si inizia a ragionare perché comunque sia è un tasso superiore all'inflazione attesa da qui a 10 anni l'emittente è un emittente abbastanza solido e quindi secondo me ha il suo perché e quindi questo è il motivo per cui vi ho voluto parlare di questo bond io lo trovo molto molto interessante sostanzialmente possiamo immaginarlo come se andassimo a scommettere contro un'Europa che a un certo punto da qui a 2-3 anni andrà ad abbassare i tassi di interesse perché sostanzialmente si va a scommettere su un'inversione di curva adesso la curva è negativa la curva sarebbe questa qui vedete è in territorio negativo andando ad acquistare questo bond sostanzialmente è come se andassimo a scommettere che questo valore torni a salire ovviamente tanto più questo valore andrà a salire tanto più per noi meglio sarà perché immaginiamo questo valore ad 1,6% 1,6 per 3 il 300% lo ripeto ovviamente andremo a prendere un interesse molto molto buono per non parlare del fatto che andare a prendere il 20% nei primi due anni è senz'altro una cosa molto positiva non so se l'ho già detto il capitale viene rimborsato a scadenza cos'altro dire cos'altro dire la considerazione finale me l'ero scritta qua sotto eccola qua in generale sostanzialmente è quello che ho appena detto questo tipo di investimento potrebbe generare dei ritorni attraenti ed essere adatto agli investitori che considerando l'apice dei tassi di interesse ammesso che questo apice non sia troppo lontano intendano scommettere sul fatto che le condizioni monetarie si andranno ad allentare nel prossimo futuro nel medio termine attenzione se le condizioni monetarie si dovessero allentare tra 5 anni questo bond non renderà mai più così tanto per quale motivo perché le due cedole iniziali quelle dei primi due anni del 10 e del 10 saranno già state pagate quindi ovviamente questa è una scommessa nel medio termine queste sono sostanzialmente le date in cui verranno pagate le cedole penso di aver detto tutto quanto io ancora non ci ho messo nulla su questo bond anche perché questa cosa la devo dire perché è molto molto importante è un titolo molto illiquido che cosa vuol dire che al momento l'interesse dimostrato sostanzialmente dalla comunità non è altissimo non è molto scambiato però per chi muove tanti soldi ovviamente il book è importantissimo il bid e ask sostanzialmente in questo caso stiamo parlando di un titolo abbastanza anzi molto illiquido quindi il rischio qual è? un rischio assolutamente da tenere in considerazione nelle proprie valutazioni che si potrebbe rischiare di rimanere incastrati proprio perché è illiquido quindi proprio materialmente venderlo potrebbe non essere facile oppure potrebbe essere facile venderlo però ovviamente dipende dal tipo di ordine si potrebbe andare incontro ad un forte slippage proprio perché i volumi non sono grandi questo rischio è importantissimo anzi avrei dovuto dirlo prima scusate se l'ho detto dopo però è assolutamente importante da dire altre cose da dire penso non ci stanno la duration l'abbiamo detto come funziona la società chi lo ha emesso penso di aver detto tutto quanto se hai apprezzato questo contenuto o ti piacciono contenuti come questo come sempre ti invito ad iscriverti a questo canale e se ti va anche di entrare sul gruppo telegram siamo circa 600 e parliamo ogni giorno di economia finanza investimenti insomma tutta questa roba con questo ho finito da Kotao nell'ostello da ora vi dico pure il prezzo l'ho pagato 11 euro a notte che è superiore della media in Thailandia però va detto in questo momento in quest'isola il 7 marzo quindi tra qualche giorno ci sarà un festival molto bello con della musica che a me piace molto e quindi sostanzialmente i prezzi sono lievitati in genere un ostello come questo anche a Kotao costa 6-7 euro quindi non costa assolutamente nulla con questo ho finito ti ringrazio per essere arrivato fino a qua un saluto e alla prossima un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto